20 arresti per i clan di Camorra, Davino e Anastasio, operanti tra Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco, Somma Vesuviana e Santa Anastasia, una operazione condotta dai carabinieri di Castello di Cisterna su impulso della direzione distrettuale antimafia di Napoli per reati di tipo mafioso legati all'estorsione, metodi cruenti come la cosiddetta stesa, consistente nello sparare ripetutamente sulle abitazioni delle vittime a scopo intimidatorio. In un video vengono anche mostrate le intimidazioni ai danni dei titolari di un centro scommesse, tra gli arrestati anche due donne, di cui una legata sentimentalmente al boss Giovanni Davino. Ascoltiamo il colonnello Rino Coppola, comandante dei carabinieri di Castello di Cisterna. I carabinieri di Castello di Cisterna durante la notte hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 20 soggetti indagati per i reati di associazione camorristica, estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti. Gli indagati sono ritenuti responsabili anche di un tentato omicidio e di un pesante pestaggio verificatosi nell'anno 2013 in Somma Vesuviana. L'operazione ha consentito di individuare i componenti dei clan camorristici Davino e Anastasio operanti sui territori di Somma Vesuviana, Santa Anastasia e zone limitrofe. L'inchiesta non è ancora conclusa, le indagini sono tuttora in corso. È stata peraltro acquisita durante le attività di perquisizione svolte questa notte una mole consistente di documentazione che dovrà essere sottoposta al vaglio degli inquirenti.